Adesso ci occuperemo di letteratura, in particolare di un premio letterario internazionale Pietro Mignosi 2022. Lo stesso è stato conferito allo scrittore e giornalista Alberto Samonà per il suo libro intitolato Bonjour Casimiro, Rubettino editore. Sono felice che mi sia stato attribuito il premio letterario internazionale Pietro Mignosi per il mio libro Bonjour Casimiro, eredito da Rubettino. È un premio importante che mi è stato attribuito per la saggistica perché in realtà Bonjour Casimiro è un libro a metà tra il saggio e il romanzo storico che narra una vicenda contemporanea ambientata nel mondo di Casimiro Piccolo, in quella villa in cui vissero lo stesso Casimiro insieme al fratello poeta Lucio Piccolo, alla sorella Agata Giovanna. È luogo in cui si recava spesso Giuseppe Tomasi di Lampedusa per ricevere consigli dal cugino Lucio sul libro che stava scrivendo, che poi sarebbe diventato il capolavoro di tutti i tempi, il gatto pardo. Ecco, sono felice di aver ricevuto questo premio perché è un riconoscimento importante a un libro e a un pezzo di storia siciliana. Grazie a tutti.